umano umano dove ti sei nascosto umano non dovresti fare così alla tua nuova padrona non va bene per te sai la reputazione per per un cucciolo da compagnia è molto importante e mi hanno detto che tu sei sei piuttosto ribelle ma con me non avrei bisogno perché io ti tratterò bene seppure furbo hai nascosto il tuo odore usando il medesimo odore della carne dei cadaveri che ti stavano attorno sì lo so è veramente una cosa crudele che ti abbiano rinchiuso qui dentro assieme agli altri cadaveri non temere io ti porterò in un altro luogo però perché non decidi di apparire altrimenti dovrò punirti tanto 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 va bene se non decidi tu di apparire per tua spontanea volontà allora arriverò io no non ti muovere rimani così come sei del resto dovrei farci l'abitudine a stare bello inginocchiato tu sei il mio cucciolo adesso io sono la tua nuova padrona vorrei tanto chiederti come tu abbia fatto a liberarti dalle catene ma al tempo stesso non non c'è bisogno che io lo sappia perché ti avrei liberato da esse non avrei più bisogno del resto un cucciolo da compagnia non sta mica al guinzaglio come i cani perfino i cani hanno più dignità perché possono stare liberi in casa o in giardino li tenete al guinzaglio solo per le passeggiate ed è esattamente quello che voglio fare io con te sai sei pure piuttosto carino oh cavolo non dovrei innamorarmi così facilmente ma penso già di amarti ti voglio tutto solo per me e se guarderei qualcun'altra verrai punita e basta perché non penso proprio che riuscirei mai ad ucciderti però potrei farti desiderare di essere morto oh però andremo così tanto d'accordo adesso ti ordino di alzarti adesso sta tranquillo non mordo troppo forte bravo e ora fammi un inchino vedi non mi sembrava così difficile dunque sai perché sei stato dato dato a me giusto perché tu non vali niente esatto non vali proprio niente sei solo un misero e stupido essere umano però come ti ho detto prima già mi piaci voglio tenerti tutto 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 per me sempre e sempre potrei usarti per fare molte cose tipo vestirmi lavarmi rapire persone per poter succhiare il loro sangue potremmo divertirci molto insieme l'unica cosa che ti chiedo è l'assoluta fedeltà nei miei confronti sai anche il mio ultimo cucciolo aveva deciso di innamorarsi così non lo capiscono anch'io si è rinnamorata di un'altra umana ma ovviamente io l'ho fatta pagare a lui e a lei non hanno ancora trovato i corpi no non ti preoccupare non sono qui in mezzo che porcile poverino adesso sei tutto sporco infrettolito potresti essere malato cavolo forse per questo che hanno deciso di darti a me perché perché magari il tuo sangue potrebbe essere avvelenato e quindi cavolo di vampiri sono sempre così non possiamo farci niente è la nostra natura come la vostra natura e essere stupidi però io voglio darti un'occasione l'occasione di farmi cambiare idea perché perché sinceramente io penso che tu sia molto carino seriamente penso di essermi già innamorata di te ora voglio che tu torni in ginocchio immediatamente adesso bravo adesso mi metto proprio accanto a te qui dietro il tuo collo ora voglio che tu presti un giuramento volevo dire presti servizio a un giuramento chi ti ha detto che potevi parlare e soprattutto che potevi correggermi tanto dovrò punirti comunque per quanto sei stato intollerabile prima dato il tuo comportamento essendo il mio nuovo schiavo devi essermi fedele e devi ubbidirmi potrei partire già adesso con la punizione sai sono tutte bucie quelle che dicono che il morso di un vampiro fa come dire donare eccitazione alla vittima penso che ci siano effettivamente degli elementi che causino eccitazione o perlomeno un grande eccesso di adrenalina ma voglio dire funziona solo in determinati contesti e questo non è il contesto ideale per te dovresti essere più rilassato tranquillo non va bene un posto così buio in cui sei stato rinchiuso assieme ad altri cadaveri che poi quanti sono i cadaveri fammeli contare uno due beh non capisco se quello sia integro meno ma penso siano tre giusto è un porcile questo posto ti porterò via di qui ma prima devi essere punito voglio adesso che tu chiudi gli occhi ora bene come è usato muoverti così tanto guarda che spreco di sangue beh il sangue è il tuo non il mio ma mi fa rabbia perché d'ora in poi sarei tu il mio posto principale è una cosa che mi fa alquanto arrabbiare lo spreco dovrò portarti un nuovo collare magari uno più come dire adatto alle mie esigenze dai vieni con me ti porterò nella mia dimora ma stai attento ti farò rimpiangere questo posto se oserei ancora disubbidirmi e ad assumere un comportamento talmente intollerabile grazie 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 grazie